Sulla deserta pianura di Zaba stavano le numerose invincibili armate del temibile barbaro Annibale. Feroci mercenari e guerrieri brutali votati alla distruzione spietata e alla conquista. Il vostro imperatore si compiace nell'offrirvi l'orda barbarica! Qualcuno è stato nell'esercito. Io ho servito con te a Vindobone. Allora puoi aiutarmi. Qualunque cosa esca da quei cancelli, avremo maggiore possibilità di sopravvivere se combatteremo uniti. Avete capito? Ho capito. E se saremo uniti, sopravviveremo. Mi piace di offrirvi i legionari di Scipione Labricano! Adesso ci senti! Vino alla morte! Stiamo vicini! Ma stiamo uniti! Stiamo vicini! Stiamo vicini! Uniamo gli sconti come un salomo! Uniamo gli sconti come un salomo! Fermi! 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 Come un salomo! M'ho fatto! Fermi! Fermi! 浜! Fermi! Sì! Sì! Marka! Quella colonna ha la piglia! Questa colonna, con me! Sperti! Andate di là voi! Sperti! Ah, ah! Massimo! Colonna Unita! Colonna Unita! Colonna Unita! Colonna Unita! Non ricordo molto bene la storia, Cassio. Ma i barbari non dovrebbero perdere la battaglia di Cartagine? Eh, sì, Cesare. Beh, perdonami, imperatore. No, le sorprese mi divertono.